I bambini di oggi vestono griffati, lo sappiamo, vogliono le marche migliori. A noi come ci vestivamo? Certi pantaloni di lana che pungevano talmente in mezzo alle cosce che secondo noi non mi hanno dato grattato. Ah, certo, si usavano una malattia per strada. Un scarpino ortopedico, al confronto dopo ci erano una pantofla quando alzavo il mio. Certe camicie di flanella a quadrettono, certi coli così, che se cadevi dal quarto piano avrò per me sono intatti. Ma il peggio succedeva a scuola, alle scuole elementari. I bambini di oggi, quarta, quinta elementari, manettano col computer e lo fanno volare. A noi, ma che eravamo una massa di deficiente, come ci trattavamo? A noi alle scuole elementari, vi ricordate? Un problema nel compito era sempre questo, sempre questo. Stava sempre l'imbecillo era contattivo, tutti i giorni. Andavamo al mercato con una cassetta di vera, era sempre la stessa. Compravamo e vendevamo e noi dovevamo sapere quanti cassetti per il cristiano si era portato. Ma che lavoro è? Un scemo! Ogni mattina c'è la stessa cassetta, compra e vende la stessa roba. Tanto è vero che noi crescevamo con l'incubo e mi ricordo la mattina come aprivo gli occhi, e mi ricordo che la notte facevamo la preghierina. La notte facevamo la preghierina. Caro Gesù, Fai stare bene la mamma e il papà, la sorellina e i fratelli, e favano un infarto contati.